Il Comune Costiero di Giulianova ha vinto la sua battaglia perché a distanza di sette anni tornerà la fermata ordinaria ovvero tutto l'anno del Frecciabianca. Il treno ad alta velocità a partire dal 10 giugno prossimo fermerà la stazione di Giulianova. Consentirà agli studenti, ai professionisti, a tutti quelli che fino a ieri dal 2011 sono stati costretti a recarsi alla stazione di San Metto del Tronto di prendere il Frecciabianca alle 6 e 16 del mattino ad arrivare alla stazione centrale di Milano alle 11 e 25 a riprendere questo treno alle 17 e 35 e tornare nella stazione di Giulianova alle 22 e 34. Nel 2011 venne soppresso così come la stessa sorte ebbero i Frecciabianca che si fermavano a San Metto del Tronto, a Pesaro e a Vasto. Ricordo le manifestazioni e il Presidente della Regione Marche Spacca che all'epoca riuscì a far reinserire la fermata a San Metto e Pesaro. Noi non abbiamo avuto questa fortuna ma ci siamo mossi da soli e grazie a un lavoro quotidiano siamo riusciti a far valere i numeri e questo ci consentirà dal 10 giugno prossimo di di avere a disposizione di tutti coloro che da Teramo, da Montorio, da Tossicia, da Roseto degli Abruzzi, da Tortoreto, tutti questi cittadini della provincia di Teramo avranno a disposizione questo grande risultato per poter raggiungere Bologna, Modena, Roigimiglia, Parma, Milano e non dover sopportare tutti i disagi che hanno sopportato fino ad oggi. A Teramo finisce sul tavolo del magistrato la vicenda del Palazzo Pericolante e Via Muzzi il cui proprietario è stato fino ad oggi sordo all'intimidazione di messa in sicurezza da parte del Comune. Per questo motivo è stato presentato un esposto alla Procura da parte del Comitato di quartiere di Santa Maria Bitetto che da anni oramai si batte per il decoro ma soprattutto per la sicurezza della zona. Sono passati anni su anni su anni senza nessuna risoluzione quindi ci siamo dovuti riunire e siamo stati quasi costretti a fare questo esposto perché è insostenibile la situazione. Oltre alla situazione di degrado perché intorno parliamo del centro storico di Teramo quindi in primis dovrebbe essere un fiore all'occhiello anche per il Comune ma vedo questo disinteresse totale. Oltre questo c'è il problema che topi, ratti, immondizia nelle vie Limitofe. Chiusura di tutte le vie del quartiere di Santa Maria Bitetto via Muzzi, via Vico del Cigno e quindi non si può accedere, non si può più camminare le persone anziane non possono passare la spesa, non la spesa, le macchine con i garage e un macello. Questo è un primo punto ma il punto più dolente è questo edificio che è lì adiacente che hanno avuto diverse ordinanze di demolizione ma non è stato mai fatto niente. Quindi può crollare da un momento all'altro anche perché con le piogge ultime sentiamo crolli dentro e quasi ogni sera, perché giustamente di giorno non ci siamo lavoriamo, noi che io proprio sono il primo che ho la casa lì a fianco sento dei rumori di crolli, di mattoni e quant'altro. Quindi da un momento all'altro noi proprio gli adiacenti a questo edificio siamo anche non preoccupati poco, molto preoccupati che ci può crollare l'edificio da un momento all'altro sopra una casa di cui noi l'abbiamo comprata, abbiamo fatto gli investimenti e rischiamo sia di distruggere la casa ma anche avere ripercussioni sulla nostra salute. Quindi siamo arrivati veramente alla fine, siamo preoccupati e dobbiamo risolvere il problema immediatamente. Nuove opportunità di finanziamento offerte dalla regione Abruzzo al porto Peschereccio di Giulianova nell'ambito della programmazione FEAMP 2014-2020. Si tratta di interventi attesi da tempo in quanto finalizzati all'ammodernamento dell'area portuale interessata dall'attività di pesca che produrranno importanti effetti anche sul miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Due importanti progetti per il porto di Giulianova completamente dedicati al settore pesca, a chi vive di pesca, a chi lavora con la pesca. Sono bandi regionali legati ai fondi europei per la pesca. La regione Abruzzo ha 18 milioni di euro a disposizione, circa 1.350.000 saranno dedicati a infrastrutture e servizi al porto di Giulianova. Io voglio ringraziare per la preziosa collaborazione l'Enteporto, l'Arap, il comune di Giulianova ma tutta la comunità marinara di Giulianova che si è dedicata con impegno e professionalità per redigere progetti di qualità avanzati. Oggi presentiamo le due iniziative importanti per il porto di Giulianova che rappresenta un porto importante non solo per la provincia di Teramo ma per tutto il settore pesca della nostra regione. Abbiamo indirizzato i nostri interventi ovviamente con alcuni criteri, quello della salvaguardia ambientale, della salute dei pescatori, della loro sicurezza e della fornitura a questo porto di ulteriori servizi. Faccio un esempio banale, noi cambieremo tutte le dotici torri faro introducendo tecnologia LED per risparmio energetico, così come faremo isole ecologiche, nuovi impianti di fognature mai esistenti, quindi posizioneremo dei bagni, metteremo un circuito di telecamere ad alta risoluzione per la sicurezza e il controllo, depositi per le reti e per il materiale da pesca, per dare più ordine e anche una tettoia per riparare i marittimi che devono svolgere lavori a terra. sostituiremo i fari d'ingresso, quindi le segnalazioni il rosso e il verde che aprono l'accesso al porto ed altri interventi, insomma, quindi hanno una filosofia molto precisa. Si tindi protesta dinanzi alla prefettura di Teramo in occasione delle celebrazioni del 201esimo anniversario dalla fondazione del corpo di polizia penitenziaria per tornare a ribadire le problematiche della carenza di personale nel carcere terramano, una situazione di grandi difficoltà per il personale della casa circondariale di Castrogno, ridotto oramai da tempo allo stremo, poiché l'organico presente è assolutamente insufficiente a garantire i livelli minimi di sicurezza stabiliti dalla legge. Sì, oggi cerchiamo di sensibilizzare il prefetto affinché intervenga sul nostro dipartimento per sconciurare la paralisi dell'istituto di Teramo. Noi ad oggi dobbiamo effettuare annualmente 45.000 ordini straordinarie per coprire il buco mancante di quasi 70 unità. L'isofraffalamento carcerario è arrivato a quasi il 40% della capienza regolamentare e nonostante questo l'amministrazione centrale continua sempre ad inviare detenuti con problemi fisicatrici. Oltre questo dobbiamo ancora fruire 16.000 giorni di ferie, degli anni arretrati che purtroppo non verranno mai effettuati perché il personale non c'è e non ci sarà mai. Noi il 19 aprile abbiamo avuto un incontro al provvedorato regionale di Roma, ci hanno stati assicurati alcune cose, tra cui anche l'invio di personale di staccato, cose che ad oggi ancora non avviene. Noi abbiamo avuto la promessa dei parlamentari di 5 Stelle ed altri che se loro insiederanno al governo faranno di tutto per aumentare gli organici. Purtroppo non è che crediamo molto, però insomma la speranza c'è. A Roseto degli Abruzzi incalzano le polemiche nei confronti dell'amministrazione comunale per non aver ancora presentato il cartellone degli eventi estivi. Il Comune replica ricordando che il ritardo è dovuto all'incertezza sugli introiti della tassa di soggiorno legata proprio al ricorso al tale che le stesse opposizioni e gli operatori turistici hanno presentato. La sentenza era attesa per lo scorso 9 maggio, ma è stata rinviata a novembre. Pertanto solo in questi giorni l'assessore al turismo, Carmelita Abruzzi, ha ripreso l'organizzazione degli eventi estivi, computando gli introiti previsti dalla tassa di soggiorno che nel frattempo resta in vigore. Il capitolo del turismo e cultura, dovrebbero ben sapere, la minoranza è collegata a entrate straordinarie e visto che quest'anno è stata inserita la tassa di soggiorno, è stata collegata alla tassa di soggiorno. Certamente con il ricorso che hanno fatto io mi sono dovuto un attimino fermare e non presentarla perché aspettevamo l'esito del TAR che poi diciamo che sarà il 7 novembre il dato in cui verrà discussa questo ricorso. E quindi siccome la sospensiva non è stata data, io posso procedere. Quindi verrà sentato a stretto giro questo cartellone? Allora io è dal mese di ottobre che sto lavorando con questo cartellone. Ovviamente tutte le persone che sono venute a farmi delle proposte o persone che sono state chiamate per delle manifestazioni che a noi, come dire, per noi sono interessanti, ho dovuto un attimino sospendere perché devo essere chiara, devo avere una situazione economica chiara prima di impegnarmi. Però noi comunque abbiamo fatto diverse manifestazioni, abbiamo fatto la box, abbiamo fatto il torneo di calcio, adesso faremo anche il compleanno di Roseto il 22 di maggio. E il compleanno di Roseto il 22 di maggio è un esempio lampante che se non avessi avuto il contributo del BIM non potevo farlo. Quindi si capisce che il mio capitolo se non viene, come dire, rinforzato dalla tassa di soggiorno noi non possiamo fare nulla. A Giulianova continua il lavoro sull'arenile da parte degli operatori turistici che a causa delle piogge sono costretti a ripulire a loro spese le spiagge dai detriti trasportati dai fiumi. Una situazione che ha anche portato temporaneamente a rendere non balneabile il tratto di 450 metri a sud del Salinello in base ai prelievi effettuati il 14 maggio scorso, giorno di temporali, anche se nuovi prelievi sono comunque stati già effettuati dall'Arta e i relativi risultati saranno resi noti entro le prossime 24 ore. Purtroppo non è di certo la prima volta che le abbondanti piogge producono esiti negativi delle analisi alla foce del Salinello e del Tordino e conseguenti divieti di balneazione, ma anche grandi quantitativi di spiaggiato nei tratti immediatamente a sud e a nord del fiume. Basta affacciarsi sull'arenile e vedere tutti questi detriti lasciati dal mare, ma diciamo che il mare a volte è in tempesta e te li tira fuori tutti e continuiamo noi a pulire. A volte quando il mare è buono purtroppo non lo vediamo. Poi aspettiamo la mareggiata successiva e di colpo di nuovo continuiamo a cacciare detriti, detriti a volontà e purtroppo è dovuto tutto questo ai fiumi, ai fiumi che quando vanno in piena lasciano tanti di quei detriti e plastiche soprattutto, che noi siamo dovuti pure a prenderli da in mezzo alle canne, da in mezzo agli alberi e compagnia parlando e accostarli a un lato dell'arenile. Eppure è brutto come punto di vista. Sempre lo solito discorso, cacciare continuamente soldi, per quanto alla fine qualcosa si può sempre evitare, non so, un occhio più di riguardo lungo gli argini dei fiumi. Penso che un occhio di riguardo pure da parte nostra, fare il possibile per pulirle immediatamente è sempre bello per Giulianova, io sto facendo di tutto, anzi per un locale che è aperto tutto l'anno è un motivo in più, solo che le prossime alluvioni speriamo che non ci siano, perché se no è la fine, non dormiamo più, siamo sempre preoccupati per questo determinato fattore. Si chiama la Fabbrica del Benessere ed è l'innovativo progetto edilizio presentato a Teramo e già in fase di costruzione nel quartiere di Colleparco, che prevede abitazioni a canone sostenibile e spazi destinati alla salute. Con la Fabbrica del Benessere Atena Costruzioni vuole dare vita a un progetto di Housing Care, che da un lato soddisfa un bisogno abitativo, come già accade con l'housing sociale, e dall'altro introduce elementi innovativi come spazi e servizi dedicati alla salute e al benessere dei residenti. L'idea nasce da anni di esperienza nel sociale e dall'altra parte da opportunità di ragionare sul disagio abitativo. In questo caso a livello nazionale nasce un tavolo di dialettica sul sistema del disagio abitativo e quindi oltre a quello della problematica tipica della redditività aggiungiamo problematiche di tipo di servizi alla persona e quindi nella comunione di questi viene fuori l'innovazione di un modello che assolutamente non sostituisce il modello dell'housing sociale ma si affianca per la definizione della soluzione di nuovi problemi, quindi problemi del disagio abitativo in seno alla redditività, sì, ma anche in seno alla fragilità delle persone delle famiglie avendo comunque queste delle problematiche ascrivibili alla persona. L'erogazione di servizi nasce in questo caso in tipo ambulatoriale e di tipo domiciliare e quindi si fa una massa critica di fruitori che nell'abitare iniziano a puntare alla qualità della vita. Noi abbiamo chiamato questo progetto la fabbrica del benessere perché vogliamo fare un luogo di sperimentazione, per questo il sottotitolo è Progetto Pilota Nazionale, pensiamo che Teramo sia e Colleparco sia un posto ideale per sperimentare un progetto di questo genere che prova a riformulare il modo di abitare, in che modo? Facendo della casa un luogo di cura. Le famiglie tutte, chi più chi meno, sono portatrici di problemi, gli anziani, i bambini, un familiare che ha una condizione di disagio di qualunque natura. Le famiglie sono spesso sole, faticano a integrare, a selezionare chi gli deve aiutare e così via. Abbiamo pensato quindi di portare dei servizi nel luogo dove si abita e che siano servizi non di semplice assistenza, come è nella tradizione dell'ausilio sociale, ma sanitari. Si svolta a Teramo presso l'Aulamagna dell'Università la cerimonia per il 26esimo anniversario delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, evento organizzato dal MIUR, Università di Teramo, il Premio Borsellino e l'Associazione Culturale Falcone Borsellino. Erano oltre 700 gli studenti delle scuole medie superiori della provincia di Teramo e della regione Abruzzo che hanno partecipato all'incontro, un appuntamento volto a far riflettere alla presenza anche di autorità di spicco della lotta contro la criminalità. Bisogna far capire quello che è successo, rendere un omaggio dovuto e voluto e soprattutto attualizzare questo omaggio assumendo comportamenti quotidiani di legalità, con la premessa che non può esserci libertà senza legalità e che la legalità la si costruisce giorno per giorno da parte di ognuno di noi. Noi oggi partecipiamo a una giornata di ricordo, di commemorazione di ricordo, però la commemorazione e il ricordo diventano lo strumento per rinnovare un impegno quotidiano, che è un impegno di tutte le persone che hanno dei ruoli istituzionali come la magistratura, le forze dell'ordine, ma è un impegno anche per i ragazzi. Perché io dico sempre, ho detto anche oggi una cosa molto molto semplice, che grazie al ruolo delle persone che noi oggi abbiamo ricordato, il nostro Paese con fatica ha fatto dei grandi passi avanti. Ecco, questo deve andare avanti e può andare avanti soltanto se c'è una condivisione profonda, perché anche questo l'ho detto, fenomeni criminali come questo, fenomeni criminali come le organizzazioni mafiose, fenomeni criminali come il terrorismo, devono essere contrastati efficacemente da parte nostra ma possono essere contrastati realmente solo se c'è una vera condivisione da parte di tutti. E questa è la ragione dell'impegno per noi ma anche per i ragazzi e penso che i ragazzi lo sappiano. Un messaggio importante, quello che parte oggi dall'Università di Teramo, un messaggio importante perché la scuola è sul campo, la scuola fa tante cose, fa tanti progetti, ma presenta tante iniziative, ma la scuola vive la sua quotidianità. Anche oggi qui nel convegno si è ribadito che l'idea della legalità permea l'attività di tutti noi e deve quindi essere esercitata, vissuta nel quotidiano. È quello che i ragazzi con i docenti guidati dal corpo docente normalmente fanno. A Teramo ignoti i truffatori hanno violato la mail di posta elettronica di un noto commerciante riuscendo a inviare a tutti i contatti una richiesta urgente di somme di denaro. A denunciarlo all'associazione di tutela dei consumatori Robinhood, il commerciante accortosi del problema ha subito cambiato la password e inviato una mail di precisazione ai propri amici e clienti, provvedendo anche alla denuncia contro ignoti presso la polizia postale. A queste mail, tra l'altro l'importo richiesto è un 800 euro, a queste mail per coloro che hanno risposto è seguito un'altra mail con l'indicazione del luogo dove versare questo importo. E in Africa è la località dove importare questo importo. Quindi ci può anche stare perché qualcuno può credere che magari un amico sta in difficoltà in un paese estero e quindi gli dà gli autos. Chiaramente la cosa a fare in questi casi è chiamare subito la persona interessata al fatto perché così raggiungiamo due obiettivi. Innanzitutto verifichiamo se questa richiesta, questo appello è reale o meno. In secondo luogo diamo la possibilità alla persona di tutelarsi, di tutelare la propria persona attraverso le azioni che seguono. Le azioni che seguono chiaramente sono quelle di rimpostare la password, ritornare in possesso della propria mail e mandare la comunicazione a tutti i contatti che quella comunicazione non era propria, era appunto dei soggetti terzi che si sono appropriati. Questa è una vecchia metodica, in genere dopo questa appropriazione venivano mandate delle mail con dei link e aprendo questi link di conseguenza si venivano attaccati e c'erano altri tipi di conseguenze. Non c'è mai limite a queste situazioni. L'ennesimo episodio avvenuto l'altra sera di fronte alla stazione ferroviaria Giulianova ha fatto riemergere la criticità relativa alla sicurezza nel comune costiero. Una rissa nel cuore della piazza in cui sono rimaste coinvolte almeno quattro persone, probabilmente spacciatori della zona. Un parapiglia con tanto di lancio di bottiglie di vetro e sedi del bar vicino scaturita da una lite che è rapidamente degenerata in violenza. Il tutto sotto gli occhi attoniti e spaventati di pendolari, passanti e commercianti della zona che tornano a chiedere maggiori controlli sul posto. Il problema della poliedricità delle persone che passano attraverso le stazioni che oggettivamente forniscono uno spaccato di tutta la società, per non dire altro. Il problema della microcriminalità è grave in tutte le stazioni. A Giulianova, lo devo dire in modo particolare perché abbiamo la vicina presenza del CERT ed è inutile negarci che dove c'è questa struttura, attorno ci sono tantissime persone che utilizzano droga e c'è l'economia della droga che a 360 gradi tocca una serie di personaggi che sviluppano il loro lavoro in questa sede che è la stazione e nelle immediate vicinanze. Ora, non è un problema che si possa risolvere semplicemente parlandone perché le forze dell'ordine ci sono e stanno facendo al massimo il loro dovere ma mancano gli effettivi. Manca la presenza costante, definitiva e concreta sul territorio che possa fare da deterrente in una stazione che è la porta centrale di ingresso della provincia di Teramo che riceverà adesso un doppio freccia bianca in cui passeranno migliaia di turisti e che già ora non siamo in grado di tenere sotto controllo con la cittadinanza semplice. Capite bene quale possa essere la problematica. Chiederò un incontro al prefetto proprio per sollecitare la presenza delle forze dell'ordine ma non che quelle che ci siano adesso non facciano il loro lavoro, devono essere aumentate di numero. Ci sono dei posti come la costa, come le stazioni ferroviarie che obbligatoriamente devono essere controllate. Fra poco in questa stazione passeranno decine di venditori ambulanti abusivi, passano già ora tutti quelli del CERT, tutta l'economia della droga che ci va dietro ed è impensabile lasciare i cittadini senza la percezione assoluta della sicurezza. L'Università degli Studi di Teramo ha conferito al Vice Presidente della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, Paolo De Castro, l'onoreficenza dell'ordine al merito dell'Ateneo, Guido II degli Aprutini. Un grande giorno di festa perché il riconoscimento dei meriti scientifici e dell'impegno politico nel miglioramento della politica agricola comunitaria e tutto ciò che il sistema dell'agricoltura in Italia e in Europa, riferibili al professor De Castro, all'onorevole De Castro, sicuramente per noi rappresenta un momento di grande festa, di grande soddisfazione. È un momento in cui vogliamo ribadire ancora una volta indicando ai nostri ragazzi un esempio da seguire quanto lavoro ci sia da fare e si possa fare per poter migliorare il sistema formativo, economico e culturale del nostro territorio. Qui a Teramo celebriamo anche questa importante avventura della Facoltà di Medicina Veterinaria, di questo centro d'eccellenza. Mi fa davvero piacere da professore ordinario della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna essere qui insieme a tanti colleghi e anche alle sfide importanti che l'Ateneo sta avviando. Stiamo parlando di una delle eccellenze nazionali sui poli di medicina veterinaria, storicamente Teramo con l'Istituto Zoprofilattico, la Facoltà di Medicina Veterinaria e tutto il distretto ha costituito e costituisce un importante centro di eccellenza per la formazione e preparazione di futuri veterinari di cui il nostro Paese come il resto dell'Europa ne ha bisogno perché non c'è soltanto la componente privata, c'è una dimensione pubblica che sta crescendo, pensiamo solo al benessere animale, a quanto è cresciuta la legislazione europea in questo senso e quanto l'Ateneo di Teramo e la Facoltà stanno facendo per formare i nuovi veterinari del futuro. Sono ripresi dopo un guasto meccanico alla draga ad Alba Adriatica i lavori volti a ripascimento sul litorale nord nel tratto maggiormente colpito dall'erosione costiera. Interventi commissionati appaltati dalla regione che prevedono l'utilizzo di una draga che rilascia sulla battigia il cospicuo quantitativo di sabbia utile per ricreare tratti di arenile essenziali per l'attività di ombreggio. Un maxi ripascimento che ci si augura venga completato a stretto giro per dare via la posa degli ombrelloni, visto che già a partire dal prossimo fine settimana diverse strutture ricettive avranno i primi clienti. I lavori di ripascimento morbido della spiaggia nord di Alba Adriatica, un importo di 500 mila euro messo a disposizione dalla regione Abruzzo per completare un'opera importante al servizio del turismo, del settore turistico e non solo. Sono in atto proprio in questi giorni i lavori con il prelievo di sabbia presso l'imboccatura del porto di Giulianova e il trasferimento attraverso delle navi specializzate di sabbia presso l'arenile nord di Alba Adriatica. Le tempistiche? Tutto terminerà in breve tempo per la prossima stagione turistica e da questo punto di vista questo intervento che è il più grande intervento di ripascimento su Alba Adriatica svolto in questi anni è per dare un servizio importante alle attività turistiche ma a tutta la promozione del nostro territorio. Grazie a tutti.